Il ministro dei 49 milioni che fin hanno fatto? Ce li hai tu? No, gli artitri dei dove sono... Il ministro dei 49 milioni che fin hanno fatto? Ce li hai tu? No, gli artitri dei dove sono... Il ministro dei 49 milioni che fin hanno fatto? Ce li hai tu? No, gli artitri dei dove sono...